Il Papa Francesco, lui sicuramente è a favore di salvaguardare l'Unione Europea. Ovviamente oggi noi siamo contrari a tutte le divisioni, siamo per l'Unione. L'Unione Europea ha dei lati deboli, non funziona perfettamente, ma comunque è un progetto di pace, di progresso, di unione fraterna tra i popoli. Dobbiamo sanarla un po', quello è il compito dei politici, anzitutto noi cerchiamo di contribuire con la voce cristiana della fede. Toleranza, sussidiarietà, solidarietà, opere di carità, chiaramente. Il Santo Padre ha anzitutto ascoltato, ci ha un po' incoraggiati con la sua benedizione, ha detto che è un progetto buono e ha ascoltato i nostri contributi.